Ben trovati, nuova edizione in diretta di TR24 Sport. In apertura il calcio con Salvatore Papa che è stato l'uomo giusto al posto giusto nel derby di Coppa Italia di Serie C tra Ravenna e Rimini. Su all'incornata vincente per sfruttare il pregevolissimo assist di Bresciani e firmare così il gol a vittoria. Dall'altra parte invece non fa drammi Francesco Scotti, portiere del Rimini che ha avuto anche un battibecco con i tifosi del Ravenna. Primo gol della stagione per Salvatore Papa, fra l'altro neopapà da qualche giorno. Allora Salvatore, un gol meritato da parte di Ravenna dopo un bellissimo cross di Siani, un bellissimo colpo di testa. Sì, è stata una bella azione. Abbiamo sviluppato sulla sinistra, poi ho messo una gran palla Siani di sinistro di prima dentro e abbiamo sfruttato l'inserimento mio fra il terzo e il quinto loro di difesa. Sono stati bravi a sfruttarlo e è andata bene così. Sì, è stato un episodio, sicuramente è stata una partita combattuta dove non si sono viste grosse occasioni da gol. Noi continuiamo a lavorare, stiamo lavorando duramente, quindi diciamo che è una partita di avvicinamento al campionato che sicuramente è il nostro obiettivo più importante. C'è stato un qualche battibecco nei confronti del pubblico della curva. Ci puoi spiegare in poche parole cosa è successo? No, non è successo niente. Io, come tutte le domeniche, appendo la sciarpa della mia città, della maglia che indosso alla rete, della porta, allora non stava bene, ma non ho mancato di rispetto a nessuno. È un gesto che faccio ogni domenica e continuerò a farlo. Dopo il pari contro la San Maurese per il nuovo Cesena è arrivato il K.O. per 2-0 contro il Forlì. È calcio d'agosto, i bianconeri sono un cantiere aperto, ma con gli arrivi dei senatori De Feudis e Capellini l'asticella si è alzata, così come ammesso dalla centrocampista Brenton Tola. A San Mauro hai giocato tutta la partita, mentre contro il Forlì un primo tempo. Come reputi la tua prestazione contro i biancorossi nella sconfitta per le 2-0 patita nel terzo Memorial Silve Sirotti? Diciamo che rispetto, secondo me per essere il primo partito dobbiamo cercare di creare qualcosa in avanti, quindi secondo me la cosa importante è mettere i minuti. Poi credo che quello stiamo lavorando bene tutti, trovare la condizione e anche quello stiamo cercando di farlo bene. Dobbiamo cercare di creare qualcosa in più per quanto riguarda oggi almeno credo davanti. Poi è stata una partita un po' condizionata anche dal caldo, quindi non è facilmente giudicabile. Sono le prime partite e la cosa importante è cercare di trovare i minuti. Che effetto fa giocare con De Feudis ad esempio, Capellini o se dovesse arrivare anche Menegatti? Comunque giocatori tanto esperti di categoria superiore. Sono giocatori che io vedevo dalla curva allo stadio, quindi è un po' particolare, almeno le prime impressioni. Sono giocatori importanti. Per me, come dicevo, sarà un anno difficile magari ritarrarmi il mio spazio, però sarà un'esperienza bellissima perché penso di migliorare tanto con questi tipi di giocatori. La fascia del capitano quanto pesa? Per il Ceseno pesa tantissimo, ma credo che sia stata una cosa un po' occasionale. E intanto si è chiusa dopo quattro serate la tradizionale festa dei tifosi del Cesena a case Castagnoli. La formazione bianconera si è presentata al gran completo, compreso l'ultimo arrivato Davide Biondini. Centinaia di tifosi del Cesena hanno accolto il ritorno del figlio al prodigo Davide Biondini. Il Rosso di Montiano ha lasciato il Sassuolo dove ha militato nelle ultime stagioni e ha fatto ritorno in Riva al Savio dopo ben 15 anni. Non un record assoluto appartenuto a quel Francesco Antognoli, con 19 anni di forbice, che sedeva a qualche posto più in là durante la cena con i tifosi romagnoli nel raduno annuale a case Castagnoli. Quattro giorni di festa con l'immancabile lotteria, musica dal vivo, giochi per bambini e buon cibo. Il più gettonato per foto-autografi è stato Biondini, ma anche Giuseppe De Feudis e Nicola Cappellini non hanno avuto un pasto tranquillo assediati dai curiosi. Ancora da scoprire i tanti giovani che comporanno il gruppo di Angelini a capotavola insieme al presidente Augusto Patrignani, di fronte al direttore generale Daniele Martini e al DS Alfio Pelliccioni. Davanti al palco principale la squadra ha risposto alle tante domande dei tifosi bianconeri, prima di congedarsi con cori, applausi e fuochi artificiali. In attesa degli ultimi colpi di mercato, buon campionato di Serie D a tutti. Parliamo adesso anche di beach tennis, con i campionati del mondo che sono andati in archivio con la trionfo delle coppie composte da Gasparri e Bacchetta tra le donne e Ramos Alessi tra gli uomini. Ma se nel caso della torneo femminile si tratta di una conferma tra i maschi non sono mancate, le sorprese. Giulia Gasparri e Federica Bacchetta si sono riconfermate campionesse del mondo di beach tennis. La coppia ravennate ha sconfitto nella finale svoltasi al bagno delfino di Cervia, il tandem composto dalla romana Flaminia Daina e limolese Sofia Cimatti, al termine di un match particolarmente emozionante. Dopo essere andate sotto nel primo set perso per 2-6, le bizantine sono riuscite a rientrare in partita, aggiudicandosi il secondo parziale sul 6-4, per poi spuntarla sul 6-3 nel terzo e decisivo set dopo 1 ora e 35 minuti di gioco. Grande sorpresa invece nel torneo maschile dove il duo Italo-Spagnolo, composto da Mikael Alessi e Anto Miramo Saviera, è riuscito a prevalere sulla coppia formata dal russo Nikita Burmakin e dal forlivese Tommaso Giovannini. Il derby col riminese Alessi se lo è aggiudicato proprio quest'ultimo in una finale vinta col punteggio di 7-5, 7-6. A destare maggiore scalpore era stato in semifinale il KO patito dai detentori del titolo Carli e Cappelletti, sconfitti dai nuovi campioni così come aveva dovuto cedere le armi anche la coppia, testa di serie numero 1, composta da Cramarossa e Garavini. Parliamo anche di Ipica, le prove sulla media e lunga distanza saranno al centro dell'attenzione nel programma di questa sera all'Ippodromo del Savio. A tenere banco sarà soprattutto il convegno abbinato alla Panathlon Auto, una delle corse più tecniche previste nella stagione 2018 a Cesena. Un martedì dall'accattivante programma tecnico attende gli appassionati all'Ippodromo del Savio, con prove che svariano dalla breve alla lunga distanza, con partenza in astri o con l'autostart, riservando spazio a soggetti di tutte le età e promettendo spettacolo sin dalle prime battute della serata, grazie alla presenza di alcuni dei migliori driver del panorama nazionale. Già in apertura di serata, infatti, andrà in scena una delle corse dal maggior tasso tecnico del convegno. Due giri di pista da percorrere per sette soggetti di 5 e 6 anni, sui quali si ripongono notevoli aspettative dal punto di vista cronometrico, con la velocista Unada Ferma ed il suo partner Roberto Vecchione, chiamati ad arginare l'ardente Uragano dei Ledi, carta di Maurizio Cheli, che ha nello scatto iniziale la sua prerogativa migliore. Il convegno propone poi un'interessante maratona alla quinta corsa, con 17 contendenti divisi in tre nastri, spiccano Roberta Dete con Zanca, Titi Pool con Visco e Fosportus con Roberto Vecchione. Alla sesta corsa segnaliamo infine un equilibriato doppio chilometro, con nove esponenti della leva 2015, sui quali si elevano i due ospiti toscani Zico e K e Zero in condotta OP, affidati rispettivamente a Roberto Vecchione e Federico Esposito. Passiamo adesso a vedere anche l'opinione di Luciano Poggi. Certo che essere italiani in questo fine settimana, o se vogliamo includere anche il lunedì, è stato davvero un bel essere, visto e considerato tutto quello che gli italiani hanno fatto nei vari sport, nei quali erano impegnati, dal motociclismo al canottaggio, al ciclismo, al nuoto, e chi più ne ha più ne metta, per non includere anche quel Fognini che è andato a battere addirittura del Potro in una finale del circuito importante di Tennis. Ma il circuito importante era anche quello di Brno, e lì ancora una volta gli italiani, e una moto italiana, addirittura in MotoGP, sui primi due gradini del podio. E allora dicevo, certo che essere italiani è stato un bel essere, un bel sentirsi, ma che cosa c'è all'origine di tutto questo? Escludiamo per un attimo il tennis e il motociclismo, lì più che altro è questione di persone e di qualità che hanno le persone, ma per il resto, per tutti gli altri movimenti, quello che conta, l'abbiamo visto, è riuscire a fare programmazione. Bisogna cominciare da zero e programmarsi, è da qui che deve imparare l'Italia del pallone. Termina così anche questa edizione di TR24 Sport. Grazie per la cortesa attenzione. Arrivederci.